E quindi non può né Renzi né Crocetta, che è scritto nel libro Paga Politico dei Petrolieri, nessuno dei due può pensare ancora di venire a dire non andate a votare per il referendum, tanto non vale, mancherà il quorum necessario. E' una vergogna che un uomo delle istituzioni non debba tutelare il valore e il principio della partecipazione democratica. La dichiarazione rilasciata sabato scorso dal deputato regionale di Diventerà Bellissima, Nello Musumeci, nell'ambito dell'incontro promosso a Gela sul referendum sulle trivelle di domenica 17 aprile prossimo, ha acceso la polemica con il presidente della regione siciliana, il gelese Rosario Crocetta. Musumeci, ha detto il governatore, ha superato ogni limite e sono pronto a querelarlo. Ho lavorato a Leni come tanti altri gelesi, ha aggiunto, ed avevo bisogno di quel lavoro perché non facevo parte di una famiglia agiata. Ho sempre lottato, ho avviato delle vere e proprie battaglie da assessore, da sindaco e da eurodeputato, una su tutte e quella sui veleni del clorosoda. Poi, aggiunge, ho lottato la mafia dentro i consorsi dell'indotto. Dunque Musumeci di cosa parla, si interroga Crocetta. Domenica 17 aprile, come dicevamo, è previsto il referendum, si vota dalle 7 alle 23. Con il referendum trivelle, i cittadini devono pronunciarsi sulla progazione della legge sulle trivellazioni solo per le parole per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La norma, sottoposta al referendum abrogativo, si trova nella legge di stabilità 2016. L'oggetto del referendum sono solo le trivellazioni effettuate entro le 12 miglia marine, che corrispondono a circa 20 chilometri. Sette sono in Sicilia. Non sono quindi la maggior parte delle trivellazioni in acque italiane, complessivamente 66, e collocate soprattutto oltre le 12 miglia, e dunque fuori dal referendum. Se al referendum del 17 aprile vincesse il sì, entro 5-10 anni le concessioni verrebbero a scadere e quindi l'attività estrattiva dovrebbe cessare. Oggi le concessioni hanno una durata di 30 anni, prorogabili di 10. Con il sì non si elimina la possibilità di proroga. Ci sarebbe la cessazione nel giro di alcuni anni delle attività attualmente in corso, tra cui quelle di Eni, Shell e di altre compagnie internazionali. Una vittoria del sì avrebbe un effetto politico e simbolico ben più forte dello specifico referendario, spingendo la politica a fare quei passi verso le energie rinnovabili che in altri paesi europei sono stati fatti negli anni passati e che in Italia sono al palo o quasi. Ci sono anche i contrari al referendum del 17 aprile. Dubbi sono stati espressi anche da alcune sigle sindacali che temono la perdita dei posti di lavoro. C'è un'altra obiezione più in generale che i sostenitori del no o del mancato quorum avanzano e quella del fabbisogno energetico. Le trivelazioni nel mare italiano, in particolare quelle entro le 12 miglia oggetto del referendum, estraggono principalmente gas metano, coprendo circa il 10% del fabbisogno nazionale. Essendo referendum abrogativo, una eventuale bocciatura lascerebbe la situazione inalterata, cioè le ricerche e le attività petrolifere attualmente in corso potranno proseguire fino alla scadenza.